Per l'ultima notte, per questa seconda edizione dell'UnoJest Festival, è un onore per noi di cercare l'ultimo concerto con il Donal Edwards Quarta. Perfetto, un applauso meritatissimo. Voglio ricordare che il cast di questa serata è stato curato dal duo Tonin Cerruti. Grazie e buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.